Finisce con un atto d'amore la vita di Liana Salmaggi, l'insegnante di 46 anni di Pianola, morta all'ospedale dell'Aquila a causa di una meningite molto rara dopo diversi giorni di coma. L'ultimo atto è stato la donazione degli organi, che salverà la vita a qualcun altro. Ultimo atto di una persona buona, solare, sempre a disposizione degli altri, così la dipingono gli amici e i conoscenti. Liana faceva la maestra e la preside del circolo didattico Amiternum, Gabriella Liberatore, ha espresso il cordoglio di tutto il circolo per una morte che lascia attonita un'intera città. Liana Salmaggi lascia due figli, il marito e il fratello. Si è sperato sino all'ultimo che la donna potesse migliorare, ma le condizioni erano apparse ai medici subito disperate, tant'è che la comunità di Pianola si era raccolta in preghiera per lei. La donna era arrivata lo scorso mercoledì in ospedale la sera, subito ricoverata nel reparto di rianimazione, e si è subito stabilito che si trattava di una meningite pneumococcica, probabilmente derivante da uno stato influenzale, nessun rischio di contagio e dunque nessuna profilassia è stata avviata. Anche la ASL, che ha dato notizia poi della morte purtroppo, si è stretta attorno alla famiglia, con il manager Roberto Testa, che ha detto di partecipare al dolore dei familiari, una comunità, quella del paese, quella scolastica, che oggi piangono un'insegnante ottima, ma anche una donna con grandissime qualità umane.